Sindaco, a Biceglie la Tares non fa paura. In altri comuni si è arrivati addirittura a aumenti del 600%. A Biceglie c'è stato il solo adeguamento vista. Sì, non soltanto non fa paura, ma è diventato un motivo di crescita anche sotto certi aspetti della città. In primo luogo abbiamo optato per questa intuzione, quella di non approvare subito la Tares nella originaria strutturazione voluta dal Parlamento italiano. Avevamo voluto attendere, aspettare e il Governo alla fine ha introdotto un'opzione, la cosiddetta Tares semplificata, che era il sogno mio quando rinviai il punto in sede di approvazione del bilancio. La cosa più importante è che questa Tares mantiene inalterate le proporzioni e le tariffe dell'anno scorso, salvo quell'aggiornamento, ma soprattutto introduce, grazie a una manovra di un milione di euro preso dal bilancio comunale e portato su questo comparto a favore dei cittadini, introduce nuove agevolazioni. Sotto i 7500 euro ISEE, quindi non il reddito to cure 7500, ma quello che tiene conto dei numeri dei figli, delle situazioni di disagio, di disabilità, quel parametro ISEE sotto i 7500 consentirà l'abbattimento del 50% della Tarso. Poi chi farà la differenziata avrà a fine anno dei premi in denaro, chi fa la differenziata tra gli esercizi commerciali avrà degli sgravi fino a un 60% e soprattutto per le nuove imprese, quelle aperte con partita IVA nel 2013 e per quelle che eventualmente hanno fatto, anche se antecedenti a quel primo gennaio del 2013, ma che hanno fatto delle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2013, ci saranno agevolazioni fino a un massimo del 60%. Per cui molti, molti cittadini bicegliesi in sede di conguaglio non troveranno quell'aumento di 20 euro che uno potrebbe pensare guardando complessivamente alla manovra di Biceglie, un aumento che se ci fosse sarebbe dilazionabile 5 euro al mese per 4 mesi, non troveranno quell'aumento del 20%, ma molti cittadini, la maggioranza dei cittadini delle imprese bicegliesi, potrà chiedere, facendo la dichiarazione nei tempi opportuni, entro 20 giorni dell'approvazione del Consiglio Comunale, potrà chiedere addirittura la restituzione di somme già pagate al Comune di Biceglie.